Restano a casa i 12 lavoratori del servizio di pulizia e la Filcams CGL ricorre alla prefettura dell'Aquila. Dal 2 maggio scorso è scaluto il contratto e la proroga non arriva dal momento che manca la firma del dirigente del quarto settore, Medeo d'Eramo. I primi effetti negativi si sono visti con la chiusura prolungata dei bagni pubblici di Viale Roosevelt, costringendo cittadini e turisti a ricorrere ai bar per ossufruire dei servizi igienici. Una situazione che ha mandato su tutte le furie il segretario generale della Filcams CGL della provincia dell'Aquila Luigi Antonetti, che ha chiesto una convocazione urgente presso la prefettura dell'Aquila della cooperativa che gestisce il servizio del committente. Noi siamo fortemente preoccupati non solo per il servizio che oggi non viene garantito ai cittadini, all'utenza, soprattutto anche ai lavoratori che all'interno del comune lavorano ogni giorno, ma anche ai lavoratori nostri iscritti che comunque fanno quel lavoro quotidianamente e che tra virgolette dal 2 di maggio non fanno più. La lettera inviata al prefetto è propedeutica, infatti, all'esposto in procura, che la Filcams CGL sta valutando insieme ai legali. Noi abbiamo fatto le nostre valutazioni con i nostri legali, che ci hanno informato di come eventualmente fare nei migliori modi la procedura e già da questa sera ci attiveremo al riguardo. 12 lavoratori, quindi sono in stembano.